Salve a tutti ragazzi e bentornati a MakeShowsha Siamo tornati con un video sul calcio Ma soprattutto sul mio profilo di TikTok Che non apro da boh Fatti raga è strana sta cosa, cioè dovrebbe essere il social del futuro Il social che usano tutti Oh a me me via raga, non me via perché poi mi trascina, mi succhia E quindi rimango a distanza Oggi ragazzi dopo un bel po' torniamo a vedere un po' di calcio su TikTok E lo facciamo alla vecchia maniera Quindi quello che ci dà il profilo, quello che il mio algoritmo sceglie Perciò supportate alla grande questo video con un bel mi piace Chi non lascia mi piace adesso verrà interrogato domani Comunque io sono come un tortellino, il buco lo trovi sempre E se sei bravo crei anche il proto Cazzaro, l'hai diventato TikTok Allora intanto si censura Annaggia raga, poi dici perché non ti guardi ste cose Ragazzi ma che fine ha fatto Cristiano Ronaldo Tra una serie, un video, l'ho lasciato un po' così Non ho più seguito, ma che fine ha fatto Che sta facendo in Arabia Saudita Andiamola a scoprire Avevo visto che aveva fatto tipo 4 gol Stava diventando decisivo Nelle ultime partite dell'Anna Ser Allora vediamo un po' ragazzi Primo gol di Cristiano Ronaldo Calcio punizione, no non c'è credo Non azzeccava uno dal 15-18 Questo è un calcio punizione da casa sua Ma minchia sta sulla tre quarti Cristiano Ronaldo Ah è un meh Infatti mi sembrava strano ragazzi Non è possibile, no? Il primo gol di Cristiano Ronaldo è stato sul rigore Ah vabbè sì però diciamo questo non vale perché non è l'Anna Ser Questo qui è la selezione All Star Guarda qui Sergio Ramos Sembra fatto apposta che gliel'hanno proprio fatto fare sto gol È la selezione diciamo dei migliori giocatori del campionato Saudita Questo è Ronaldo Junior first goal No ma è possibile? Ma lui non è tornato a giocare con Real Madrid? Allora ragazzi mi piacerebbe fare un video sul figlio di Cristiano Ronaldo Perché ci sono dei video che giravano di quando lui era alle giovanili dello United Che sembra veramente interessante Capiamo va a butto là Però vi dicevo quelli non sono i gol di Ronaldo con l'Anna Ser Presione first goal Ma no ma questi sono tutti fake Guarda Ronaldo come lo alza de peso Gli dice oh ok no no Si sa in che lingua parlano Pagano ammuniti tutti e due Va bene Secondo me ragazzi mettersi lì a guardare sto campionato Escono fuori proprio le sorprese e cose belle Ma Cristiano Ronaldo Ecco questo potrebbe essere il primo gol effettivo di Cristiano Ronaldo con l'Anna Ser Ovviamente è sul rigore Ah guarda questo che meme In realtà questa è l'ultima partita di Cristiano Ronaldo E questo è l'ultimo gol non gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve Tra l'altro se fosse stato assegnato sarebbe stato tra l'altro ragazzi Un turning point camoroso secondo me Con questo gol chissà se Ronaldo se ne sarebbe andato Ve lo chiedo Secondo voi sarebbe comunque scappato dalla Juve Poi posto che a conti fatti ha avuto ragione lui ragazzi Perché veramente la Juve Cioè da qua è iniziato il declino Questa era la prima partita che era di due anni fa Vabbè quando era tornato Allegri Ho fatto ridi ragazzi Poi una serie di sconfitte Mi ricordo in quella partita Chesney fece un po' Che dicono adesso gli haters Ah forse questo ragazzi è la compilation dei gol di Cristiano Ronaldo Capirai Cristiano? Cioè guarda che difesa Chi è che difende così ragazzi? Questo vabbè Allora il terzino poteva avere magari quest'altro vicino Ma Ronaldo sta in mezzo a tre Poi ci va il set e non ci va manco il difensore centrale a chiuderlo Però il tiro era difficile quindi Questo campo non so metà le vibes Il vecchio campo del Bayern Monaco Non so perché Mandato in profondità Cristiano 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 Vabbè ma il portiere è un bot Il portiere è un predefinito De quelli che becchi in Pro Club Ora ricore vabbè Cristiano Ronaldo Con l'afro Sì no per forza raga Afro e Buffett Questo è un giocatore Pro Club Esulta così Ma Ronaldo ancora Mandato in profondità Oh il portiere l'aveva presa Dai ragazzi ma sembra uno dei cugini di campagna Quel portiere Ma chi è? Vabbè Oh però non ha fatti quattro Nel mismo partito eh Secondo gol di Cristiano Ronaldo All'Anna Ser Ma sono tutti Gol che Non sono quelli Però ragazzi Non è solo gol Cristiano Ronaldo E anche assist Se questo lo vogliamo chiamare assist Però sì ragazzi L'ultima partita Lui ha fatto tipo Quattro gol e due assist Questo è un assist ragazzi Chiaramente lui cercava di buttarla dentro Gli è tornata indietro E vabbè E l'amico segna Vediamo un po' Se da qua si vede un po' meglio Quindi quello ha tirato Vedi Ronaldo ci ha messo la mano Tra l'altro forse sarebbe pure entrata Quindi ha mezzo rubato il gol All'amico Vediamo un po' il 18 Che è Luis Gustavo credo No no usciva Usciva E però Sta trasformando in assist E lui E il bonus Perché voi non so se lo sapete Ma spesso Nei contatti dei calciatori Ci sono il bonus Per i gol e per gli assist Quindi facciamo un esempio Cristiano Ronaldo Ogni gol Magari l'Anna Ser Gli dà 100.000 euro 200.000 euro 300.000 euro Stessa cosa per gli assist Che ne so Un De Bruin Ci avrà nel contratto Che se fa un assist Gli danno un bonus Quindi immaginate lui Che va dal presidente E gli fa Uuuuh Queste assist E il presidente Vabbè Cristiano Ma mo è un assist È un assist È un assist E si porta a casa la sera Non che gli interessi ragazzi Mo non mi ricordo bene Quanto percepisce Ma 1.000 euro in più 1.000 euro in meno Però un tempo ragazzi Cristiano Ronaldo era questo Detacchetto Mamma mia che giocatore Forse la versione prime E quella Real Madrid Però io mi ricordo ragazzi Che quando ero più piccolo Quando andavo ancora a scuola Cioè l'astro Ronaldo allo United Era una cosa troppo devastante Il calcio però non era come adesso ragazzi Che ci sono differenze nette Tanto questo è un altro assist Praticamente Palla lunga e pedalare Cioè quell'altro P.T. Martinez Dovebbe essere tipo un giocatore forte Argentino Si è rotto tutto Voi dicevo ragazzi Non c'era una differenza così netta Tra i vari giocatori Oppure non c'era uno che segnava Come un animale assassino C'erano tanti giocatori Che segnavano tanto Mi ricordo che ne so Pannister Roy Raul C'era Pippo Inzaghi Che segnava un sacco Bobbo Vieri Ce n'erano tanti Però erano più umani Nel 2000 Che ha vinto il pallone d'oro figo Oppure quando l'ha vinto Owen Dici Owen L'ha rubato In realtà non l'ha rubato Lì ragazzi c'erano Zidane Totti Ronaldo il fenomeno Ce n'erano tantissimi Ce n'erano tantissimi Questo è l'assist invertito Vabbè è sempre lo stesso Non è che se ce lo fai rivedere Da più angolazioni O lo specchi Vuol dire che ha fatto più assist Cristiano Ronaldo Non può fare gli assist E invece E invece Pazza che bei passaggetti Che fa ogni tanto Quando la passa Poi i ragazzi Da un certo punto in poi Dalla sua carriera La X gli si è rotta E non l'ha più passata Va bene Grazie mille CR Ma adesso passiamo Al calcio Vero ragazzi Che succede Se io scrivo calcio Napoli big match I risultati Mamma mia ragazzi Ieri ho visto Una partita contro il Francoforte Devastanti Devastanti Tra l'altro Lazio Napoli 1-2 Manca un rigore Palla Lazio Ma è scandaloso Che sia finita solo 1-2 Poteva finire Sarà tanto a poco E finirà tanto a poco Perché da qualche giorno Si giocherà Napoli-Lazio E là va a finire Veramente male Però minchia raga Quest'anno il Napoli Non lo fermi Ti riesce tutto Il gol di Lorenzo Se me posso permettere Cioè nel senso Parascheglia Fa un tacco clamoroso Illuminante Quello che volete Il passaggio De zambo Clamoroso Però se voi vedete Il tacco che fa Cioè lui la prende Mezza sporca Nonostante tutto Quella palla va perfetta Da di Lorenzo Che col sinistro La mette là E lì raga Non puoi fa niente Porta vota fratello Porta vota fratello Aspetta 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 Eeeh Eeeh Vabbè volante Eh si Oh scatarro Ok 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 No Vabbè hai sbagliato Dove ti tira una pecetta Oh 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 No Pratic makes perfect Vabbè peccato Che sia al contrario Sta roba Perché c'è Sto gol l'ha fatto Tipo dieci anni fa La rovesciata con la nostra Rade qualche settimana fa Però questo ragazzi Rimarrà sempre Per sempre Uno dei gol più belli Ma ha vinto il Puskas Award Oppure no Il premio che si dà Ai gol più belli Dell'anno Fall Gol più bello dell'anno Reazione dopo un fallo Giusto a munire entrambi Vai vediamo vediamo Ma poi vi dico un po' la mia Ragazzi Reazione dopo un fallo Quindi Questa becca al fallo Oh Mazza quanto dura Oh Brutto Aspetta aspetta Vediamo un po' Allora ti devo dire Non riesco a sentire bene I genitori Ma muove Dico la mia ragazzi No 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 mass No mass Vieni vieni Oh comunque fateci caso Ragazzi C'hanno tutti Lo stesso taglio dei capelli Guarda Questo c'è là Quello c'è là Quello c'è là Tutti rasati E riccioletti sopra Minchia ma questo Fatti con stampino Ma tipo il calcio balilla No Il biardino Sono tutti uguali Ti dico la mia ragazzi Da uno che non conosce Il regolamento Lo conosco Però qua è un po' Interpretazione Allora intanto Rivediamo il fallo Eh no brutto Aspetta aspetta Allora il 7 Da munire sicuro Perché era a palla lontana La palla sfilata Cioè lui è andato direttamente Sull'uomo Lui si rialza Allora quello che fa fallo Giustissimo a munirlo Perché a palla lontana Il 3 Potevi pure non a munirlo Perché effettivamente Quello gli ha fatto un fallo Brutto a palla lontana Poi non sappiamo In partita che è successo Però gliel'avrei dato lo stesso Perché so giovani A livello educativo Glielo devi dare Perché Ste cose Sono fomentati So cringe Come posso dire So cringe Poi non so quanti anni Ci avranno questi qua Ma ve lo dico da uno Un po' navigato E lo so Che voi siete giovani E dite Oh Mike Che boomer Ragazzi ci sono passato anch'io Io pure ho giocato Nei campetti Di prima categoria Erano solo botte Solo botte E non vedi con terza categoria Che succedeva Chi gioca Sti campionati Lo vedi proprio Che è gente che Cioè ci sta chi se vuole divertire E chi lo fa per amore dello sport E poi ci stanno quelli Che vanno solo lì di cà E sugli spalti è ancora peggio Visto che questi sono giovani E visto che ci sono passato Vi dico ragazzi È una roba Stubida È una roba che Quando crescerete Ve vergognerete Se avete un minimo De cui Poi soprattutto Quelli che si fomentano A fa sta roba Capito Io meno Faccio Torchiarcio Mi faccio Ammonì Mi faccio Spello Io ho preso Tre giornate Io ho dato Una comitata Io ho fatto Ma che hai fatto Sta giocando Terza categoria Ripigliate Ho come quelli Che fanno i video Su youtube Oh Meno Meno Cioè Cringe Meno Attenzione Vediamo che il cogliesa Si sente la tua mancanza In campo Vabbè è tornato Porco giro Guarda che animaccio Vabbè pichetto Mo ciucciavo pure io Vai Kikko Vai Kikko Questo che poi Che era la No No Come si chiamava Poi abbiamo perso Comunque Vabbè una di quelle coppe Inutili nuove Oddio Skill senza toccare il pallone Oee Cudini al bar Oee Ole Bellissime queste cose ragazzi Però finché lo fa Messi Weee Beh Ballata la samba quello Marsito Vabbè ne Marte Lo fai nel campionato De cose Posso dire una cosa È bello È spettacolare Però C'è una skill Nel basket Che è ancora più bella Da vedere Che sono gli ankle breaker Praticamente Quando uno dribbla E lo spezza caviglie E tu vedi proprio Che l'avversario Ha per terra Quello è veramente bellissimo Ragazzi Se giocate a calcio E non fate i portieri E il portiere della vostra squadra Fa un errore E vi fa prendere corda Andate dal portiere Se siete dei veri giocatori Se siete dei veri uomini O delle vere donne Se giocate a calcio femminile E dite al vostro portiere Non succede niente Non ti preoccupare So che sei forte Non ti devi preoccupare Non ti abbattere Dovete andare lì a caricarlo Cazzo Non dovete andare lì A buttarlo giù di morale I veri giocatori I veri uomini I veri compagni di squadra I veri capitani Vanno dal portiere Mi dicono Ma li portacci Tu hai le mani di fucilone Vabbè è facile così Allora sei un amico pure pure Allora ragazzi Voglio vedere con nonno ballotta Con Fernando Muslera Voglio vedere con Juan Pablo Carrizzo Se parla di Che no sei forte Dai dai Non succede niente E cazzo Voglio l'addio a Carius Ma non succede niente Ti ha fatto perdere la finale di Champions League Poi Che quelle mani Adesso Tocchino altro Ciao a po Attenzione Alessander Arnold Che riceve un sacco di gridiche In Inghilterra Per il suo modo di difendere Che non esiste Ovviamente Perché non esiste Oggettivamente C'è qualcuno che forse Ci marcia un po' troppo Però ragazzi Effettivamente non esiste E credo che l'avrete visto Pure l'altra sera Però dal punto di vista Offensivo Tecnico Quello che è il giocatore Se lavorasse pure Su quel tipo di fondamentale Stiamo a parlare Un grandissimo Infatti La grande contraddizione Dell'Inghilterra È che in quella fascia C'hanno tre giocatori Quattro in realtà Fortissimi Ma ognuno Con una lacuna C'è Alexander Arnold C'è Walker Dai vedi che sono quelli che so C'è Rice C'ha altri problemi E c'è Tripea Mbappé Walker sicuro Eccolo qua Victor Rosyman Imagine Madonna raga Comunque Rosyman Paraskelia Ah immagina Finale di Champions League President German Napoli Segna il 93 Rosyman Te posso dire Che secondo me Il Paris Non ci va in finale Tiferò per loro Contro il Bayern Monaco Ma non credo che ci vada Se vi chiedono cos'è il calcio Fategli vedere questo video Ok Ma chiedeteglielo All'inglesi Fategli vedere questo video Vabbè per noi È stato sicuramente Un grande momento Un momento forse ragazzi Che andando L'analizzare oggi Te posso dire Forse forse Ci abbiamo avuto pure Un bel po' De bucio de culo Eh Sì sì Altro che no Pensavo Che la vera partita Fortunata Fosse stata Con la Spagna Che la ci hanno devastato E ce l'hanno incartata In tutti i modi Cioè Luisa Enrique Se l'è messo in tasca Mancini Allora I gol più belli Della storia del calcio Vediamo un po' Condon via contro il Chelsea Pallonetto da 40 metri Oh vinceva l'Inter 2 a 0 Attenzione Il mitico Zaccardo Non ho look di sinistro Peccato ragazzi Non è risulta per rispetto Giustamente Coulibaly Al volo sotto Inter Tottenham Allora Chelsea Paris David Luiz PSG Ah oddio lo faccio anche io Lo faccio anche io Devo scegliere un giocatore Che ha giocato Con tutte e due Ok Roma Chelsea Salah Roma Tottenham Roma Tottenham Roma Milan Oh ragazzi è difficile Allora aspettate Roma Milan No ce lo riusci 1 hour later Vabbè non mi viene Milan Inter Pirlo Paris Saint Germain Milan Begham Paris Saint Germain Tottenham Lucas Moura Paris Saint Germain Chelsea Vabbè no David Luiz L'ha detto lui Ce ne sta un altro Tiago Silva Inter Tottenham Perisic Inter Chelsea Ovacic Ragazzi ma manca Roma Tottenham E Roma Milan Ah la mela La mela La mela Roma Milan Non mi viene Boriello ma va Allora vediamo questi ragazzi Che sono sempre Intrattenenti Nico sbaglia rigore Tutto sto rigore Da regalate il portiere Ello No Vabbè però il portiere C'ha le mani Aiutatelo Geek No però Ok portiere No perché No già gli hai regalato il rigore A quello Samuce va sempre vicino Bello Bello banco Tu touch Questa è No vabbè Tu touch No così La metti giù Che vuol dire No di toccare E tirare al volo Andre la vede La mette giù Attenzione Oh bello In parocchia Lui ci va sempre vicino Samu Oh Ci zittisce Samu Attenzione Ancora lui La mette giù Bella No la devi piazzarla Fratello Vai Passa asciutta Questo ce l'ha Bravo Bravo Alla fine gli aveva fatto A fa un gol Lui c'ha Lui c'ha il piede Il banco No Samu Ci va vicino Samu Ci va vicino Silenzio Rispetto Rispetto Vabbè però il portiere Non c'è stava Fatelo coi portieri Ste cose Oddio ragazzi Questa era la challenge Che feci io Ah no Non c'entra niente Stanno andati a riprendere il pallone Cioè per andare a riprendere Un pallone che costa 20 euro Hai speso 500 euro di scale Porco te chiamo i pompieri La prossima volta Vai Samu Panko Esther Nico Samu Sì Sì Vabbè i portieri Incellano Vai bionda Bello Oh il portiere Ci ha messo le mani Ti ha ricordato che ce l'ha Bello questo Bravo portiere Lui Lui ne si appacchi Lui ne si appacchi Vai Nico Ma mia che scandale io Esther e Nico Non ci punterai Manco 10 centesimi No Ebbene Panko Panko E' uno piazzato Vai Esther Dai bionda Sarebbe Era giusta Dai Panko Dai No lui sbaglia No No lui ha sparato per aria Madonna Ne hanno fatto uno L'altro i zoccecchini I tiri più potenti Della storia del calcio Una intro Che veramente Varebbe scappare chiunque Andiamo Adriano Ah madonna Ma lo ricordo ragazzi In tiro da Adriano Che tornò a centrocampo Però me lo ricordavo L'udinese Boom Il mio più grande rimpianto 140 km orari Per quello che poteva essere Mai sarà Invece abbiamo Zlatan Ibrahimovic Che io preferirei A Il grande Zlatan Muslimovic Non so se lo ricordate Non lo ricorda nessuno Perché era un giocatore No Muslimovic Forse si è fatto pure qualche partita Mi sa che lo sto Treseghe 150 km orari Ma quando? 150 km orari Manco se sommi Tutti gli scatti Che ha fatto in un campionato Ronald Koeman 188 km orari Questa era la finale Coppa del mondo Sì del mondo Ciao La Champions League Vediamo quello più potente Ronnie Eberson Ah sì sì Quello dello sporting Non lo ricordo ragazzi Vabbè i tempi Quando non si andava a scuola Facevano Euro goal Su Eurosport E ti facevano vedere Tutti sti goal E io ero innamorato Di Mido Attaccante egiziano Dell'Ajax Giocava in coppia Con Ibrahimovic Però quello che sognava Era Mido Mido Andrò alla Roma Ibrahimovic Andrò alla Juve Beh ragazzi Questi erano alcuni Dei TikTok Sul calcio Siamo tornati un po' In vecchio stile Se trovate qualcosa di bellissimo Taggatemi su TikTok Lo vedremo nella prossima puntata Ciao a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao